ciao sono vittoria qui a city zen insegno mindful yoga cos'è il mindful yoga in effetti è una pratica che porta molta più attenzione al movimento stesso si contraddistingue da anche attimi di pausa semplicemente per dare ascolto alle sensazioni del corpo e allo stesso tempo dando più priorità al movimento e non all'esecuzione della forma spesso il movimento in molto rallentato rallentato anche perché molte ricerche in ambito di neuroscienza di anatomia ci indicano quanto questo sia fondamentale per la salute di corpo e mente cosa mi ha avvicinato alla pratica in effetti era un avvicinamento molto casuale ma dalla prima lezione è stato un cambiamento radicale rispetto a qualsiasi altra disciplina o sport di movimento che avevo fatto fino a quel momento ed in questo senso è il filo conduttore che mi porta ad essere continuamente legata alla mia pratica adesso quello di continuare a mettere in discussione a valutare ed evolvere la pratica per portare benessere realmente a 360 gradi less is more